Bentornati a Sfida Yolanda! Unibet ti dà la possibilità di confrontarti con me con una multipla. Andate sul sito unibet.it alla sezione dedicata e scegliete tre partite. Io mi sono divertita a fare un viaggio in Premier, in Liga e in Bundesliga. Cominciamo da Sunderland contro Manchester United e poi il derby di Madrid tra gli uomini di Zidane e il Ciolo Simeone e, infine, Bayern Monaco contro Borussia Dortmund. Amici, anche per questa settimana è tutto. Commenta con me con l'hashtag SfidaYolanda. Il mio guanto di sfida è lanciato. Ora tocca a voi!